Ciao a tutti amici, benvenuti sul mio canale, io sono Toukens ed eccoci qua con un nuovo appuntamento del Rodotuccello Nero. Oggi andremo a sbloccare la mimetica oro per quanto riguarda il secondo fucile a canna liscia. Infatti, come potete vedere, andremo a prendere la mimetica oro del Banshee. Per prendere la mimetica oro, però dobbiamo compiere le ultime 10 uccisioni con l'arma priva di accessori per sbloccare la Bengala e di conseguenza la mimetica oro. Quindi amici, cerchiamo una partita, vi taglio questo pezzo e ci vediamo all'interno del match. Allora amici, eccoci qua su Terminal, quindi sbridiamoci ed andiamo a fare queste 10 kill, veloci veloci, anche perché 10 kill con il Banshee sono poche. Allora, mettiamoci in questo angolino, intanto questi sicuramente arriveranno, eccone, mi hanno ucciso. All'inizio vanno tutti là, ma poi si disperdono. Uno, in scivolata, quindi me ne mancano 9. Due, da dietro, da dietro non vale. Da dietro non va, oddio, quello sta sempre là. Allora, vediamo se lo riusciamo, ecco no. Oddio, per fuoco. Quelli si stanno scannando. No, me l'hai rubato, maledetto. Allora, camperiamo un pochino qua. Eccolo quello che viene da là. Dai, dai, ce la faccio. Oddio, l'avevo cercato male, l'avevo riusciato. Eccone un altro. Maledetto. Comunque, amici, come per il Rack 9, come per tutti i fucili, ecco, a canna e lisce. Se un avversario ti prende da media distanza, ti uccide, perché non ce la fai. Oddio, dove vai? Muori. Allora, vediamo se riusciamo ad ammazzare quest'altro, ma... No, niente. Vi sto dicendo che gli avversari, ecco, a media distanza non ce la fate ad ammazzarli. A meno che voi non abbiate, ecco, equipaggiato canna rigata, mi sembra che si chiami così, l'oggetto che vi permette di aumentare, ecco, la portata. Però, ovviamente, dovendo compiere, dovendo prendere, sto camper che fai qua, dovendo prendere la mimetica bengala, non possiamo, ecco, equipaggiare canna rigata. Quindi, dobbiamo fare le kill da vicino e vicino agli avversari. No, maledetto, me l'ho ucciso. E, ovviamente, dobbiamo stare negli spazi un pochino stretti. No, stai sopra. L'ho ucciso. No, no, no. Ah, qua, ho sbagliato. Dovevo scivolare, non ce l'ho fatta. Allora, stanno tutti qua nel corridoietto. Oh, ho sbagliato, vabbè. Ho sbagliato, ho attivato corazza cinetica inutilmente. Questa è una partita un pochino lenta, eh. Stiamo ancora a 27 a 23. Oddio, quello mi uccide, mi uccide. No. Eh, affancuppe, la volevi, eh, volevi. Da dietro, vabbè, non ho potuto farci niente. Questo è morto. Allora, vediamo se lo riusciamo a prendere. Niente, eh. Comunque, eh, me ne mancano pochi, mi sa, eh. Salvatore, che è riuscita. No, no, come non è morto? No, questa la voglio vedere, eh. Comunque mi sa che ho sbloccato la mimetica. Lo avevo, cioè, lo avevo preso. Comunque mi sa che ho sbloccato la mimetica, sì. 10 kill, le ho fatte. E niente, vabbè, non ve l'ho fatta vedere, però, ah, cioè, non l'ho fatta vedere, non è comparsa la schermo, però ho sbloccato la mimetica a bingala e la mimetica a oro. Quindi, come per tutti, questo non mi ha visto, buongiorno. Eh, come per tutti gli altri video, ecco, andiamo a finire questa partitozza. Cercando di fare qualche kill in più, perché 10 kill, ecco, con il fucile a canne lisce, sono pochine. In frattempo, questo mi ha saltato in testa, ma non mi ha visto. Però non ce l'ho fatta a girarmi. Quello, no. Me la date una mano, che non ce la faccio così, vabbè, me ne vado. Scappo, via, me ne vado via. Te, da dietro. Facile, facile. Buongiorno. Alla fine, va, oddio, quello... Con lo scudino. No! Da dietro. Comunque, vi dicevo, se li trovate tutti davanti, gli avversari, riuscite anche ad ammazzarli tutti con il fucile a canna liscia. Ma, se ne trovate uno avanti e uno... Un avanti e uno dietro, non fate in tempo a turnarlo. A parte che è difficile pure turnare, quindi... Con il fucile a canna liscia non è proprio impossibile. Ammazzate uno e basta. Oddio, quello... Dai, vieni, vieni. Eh, vole... Questo pure. Non sei morto? Ah, sei morto, sì. Questo. Bam! La morte viene dall'alto. Allora, di qua. Comunque, amici, se potete notare... Cioè, potete notare, se avete visto i miei video precedenti... Eeeh... Sto da solo, il buon poesed non mi può accompagnare, quindi ho detto, vabbè, andiamone a fare da soli i video. Tanto, eh, aiuto. Tanto il buon poesed mi andava a rubare solamente le kill, ok? Anzi, io lo saluto poesed. Eeeh, vabbè, ovviamente non mi ha abbandonato, quindi ci sarà sempre nei miei prossimi video, oppure, sì, in qualsiasi, in qualsiasi, in qualsiasi, in qualsiasi... Ci sarà nei video, aiuto. Eeeh, ecco, il che non... non mi ha abbandonato. Quindi, per il momento, vi sto facendo da solo questi video, ma in seguito tornerà... Questo... Oddio! Oddio! No, no, quel... No, oddio, 60... Di qua? Dai, 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 su. Eeeh... Che vi stavo dicendo? Ah, che comunque lascio in descrizione il link del suo canale. Eeeh, passateci, non di iscrivetevi, non... non vi costa nulla mettere un'iscrizione. Nel frattempo, da dietro, come sempre. Allora, andiamo a mettere... Vediamo... Questa bella torrettina, l'andiamo a mettere qua. Oddio, via! No, non l'ho messa, non l'ho messa, maledetto. Quindi, stiamo 77 a 69. Questa, secondo me, l'andremo a vincere. Me la fai mettere la torrettina? Fammela mettere! Oh, me la fai mettere? Ecco, la mettiamo qua. Mi ha ammazzato. Che torretta, vendi, come se ce la fai a girarti, ma non penso. Ecco, subito distrutta. Perché ho preso la torretta? Allora, allora... Oh, i frattempo ci stanno recuperando, ho portato sfortuna! Allora, questa spaga da qua, sicuramente. Tu sei morto. Dove vai, dove vai? No, da dietro... Da dietro, quello stava là. Stava nella cabina dell'aereo. Comunque, amici, Io, mi mancano due mimetiche oro da sbloccare per prendere la diamante per i fucili a canna liscia. Ho preso la mimetica diamante per i fucili d'assalto. Ho preso la mimetica diamante... Ah no, no, sì, mi manca un'arma, l'HVR, mi manca per prendere la mimetica diamante per le mitragliette. Ho preso la diamante per i mitraglioni. Mi manca la mimetica oro dell'HVR per sbloccare la diamante per i fucili da cecchino. E che altro? Diciamo, prima ne ho fatto una conta, mi mancano una decina di armi per sbloccare la diamante in tutto. La solare. La solare. Se non sbaglio adesso, mi sta impaffinando il cervello. Una decina di armi per prendere la Dark Sky. Perché abbiamo 14 armi per prendere la solare e poi quelle altre per la Dark Sky. Comunque amici, la partita è finita. Abbiamo vinto, sono arrivato prima. Andiamo un po' a sfruttare gli avversari. E niente, quindi io taglio questo pezzo e vi faccio vedere la mimetica oro. Allora amici, eccoci di nuovo qua. Andiamo a vedere. Abbiamo sbloccato quindi la Bengala e di conseguenza la mimetica oro. Da come potete vedere, non vi mento, perché questa è la seconda mimetica oro che ho sbloccato per i fucili a canna liscia. Infatti mi mancano le altre due per prendere la diamante. Quindi amici, questo video può concludersi qua. Io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao! 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 Grazie per la visione!